Grazie a un jammer, un disturbatore di frequenza in grado di intercettare l'impulso che collega due dispositivi, riuscivano a mettere a segno i loro furti su auto, furgoni e camion con facilità e rapidità. Furti in serie sempre nelle aree industriali del Macrolotto 1 e del Macrolotto di Yolo, a danno di corrieri, imprenditori e clienti delle tante aziende della zona. La serie è stata interrotta mercoledì scorso dai carabinieri di Yolo, che hanno arrestato due fratelli di 26 e 28 anni, pregiudicati i residenti uno a Prato e l'altro a Campi Bisenzio. L'ultimo colpo, vittima a una donna cinese dalla cui auto parcheggiata i fratelli hanno prelevato una borsa, è stato seguito in diretta dai militari che già da qualche giorno monitoravano i movimenti dei due. Era un sistema particolarmente ingegnoso e anche tecnologico. Con questi jammer, ormai si trovano anche in libero commercio, su internet soprattutto, questi due fratelli sono riusciti a commettere diversi furti, soprattutto nei macrolotti. Ovviamente le persone ignare e pensando di aver chiuso la loro macchina, invece con questi sistemi la macchina non veniva chiusa e loro potevano in qualche modo razziare tutto ciò che era all'interno. Obiettivo dei furti, borse, soldi, telefonini, computer, abbigliamento ma soprattutto le carte di credito con le quali in almeno un paio di occasioni avrebbero fatto shopping in centri commerciali. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire con esattezza il numero di furti portati a termine. Noi pensiamo che oltre al fatto singolo per cui sono stati arrestati dopo un inseguimento, pensiamo anche che ce ne siano molti altri che sono stati denunciati e stiamo cercando di capire e di individuare quali siano per potergli in qualche modo rendere responsabili anche di quei furti.